Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TheBestRocky58 E vi do il benvenuto insieme ai miei capelli di merda Ho cambiato location, ho spostato la TV Così almeno non mi scasso le palle, no ok? Sembra i locetti, vabbè sti cazzi Oggi andremo a fare la carriera, questa nuova serie appunto che mi avevo promesso ragazzi E niente, intanto vi ringrazio per... Ragazzi due no Vi ringrazio per i 687 mi piace, credo E niente ragazzi, appunto come vi ho promesso vi sto portando di video Quindi lasciate tanti like, poi diremo quanto 22, 24, vabbè Allora vediamo un po' Ok iniziamo la gara ragazzi, vediamo un po' Psewnigara, difficoltà, reale, certo E niente ragazzi, quindi iniziamo la gara bellissima così Papo, papo, papo fiera Papo, papo fiera Papo de merda proprio Bruno, un circuito che non mi piace tanto personalmente Anche se è parecchio veloce, devo dire Ci andiamo in pista ragazzi, subito, subito, popo, popo, popo così Ok iniziamo malissimo perché non mi ricordo i comandi Vabbè, aia, mi collo Ok La prima curva di questa serie è presa alla meraviglia Ora meraviglia proprio no, però Stiamo là Questa devo dire che è venuta bene Questa si lo devo ammettere ragazzi Ok possiamo partire con il primo giro Ragazzi comunque scusatemi se non parlo tanto durante questi tipi di video Perché sono molto concentrato E nulla Non solo per farvelo sapere perché Soprattutto questi giochi che mi prendono molto Perché è la mia passione questa Oltre alla batteria ovviamente Quindi sto sempre zitto e mi concentro Perché è come una sorta di Amore che provo nel sentire sia il rumore delle moto Che Buono lo so Vedere l'omino piegare Quindi È stupido Siamo già con intertempo rosso Quindi buon tempo ragazzi Anche se siamo i primi a girare Quindi non durerà molto Speriamo di sì però Ragazzi intanto era tipo da Un mese che non ci giocavo Quindi Sta andando parecchio bene per essere il primo mese Passa sul cordolo Mamma mia Perde un decimo Perde Di sicuro Ok Cambio di direzione Sempre tempo rosso Ah siamo usciti un po' male da questa curva Abbiamo perso qualche cosina Ma va bene ragazzi Ma sto giro è da fenomeni Vediamo un po' Freniamo Una bella pasticcata Qua sono sempre a cadere Però Meno mai che non siamo caduti Ora Siamo usciti un po' larghi Va bene così Qui ritardiamo Qui stringiamo Ok Ah l'ho tagliata Merda Abbiamo perso un botto di tempo Qua Porca Devo Beh sempre rosso Siamo primi Dai E ora incominciano ad arrivare gli altri temponi Vediamo un po' Facciamo un capello ribelle E alziamoci subito In carena Giù 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 Quanto è? 2 e 7 2 e 7 Torniamo in box Ragazzi vediamo subito quant'è Buono Vediamo se è buono Scorri tempo Non è buono ragazzi Non è buono Andiamo dove Vediamo dove arriviamo Dove andiamo a finire Ok ragazzi Partito Oh mannaggia a te Mannaggia a te Quartararo Mannaggia a te Ma baffanculo Quartararo però Guarda dove cazzo si va A mettere la traiettoria Appena esci in box Appena esci in box Italiano Mentre Mentre cagli proprio Ok Anche se Quartararo de merda Senza offesa per il reale Ci ha fatto perdere Un po' di tempo Non dovrebbe essere Un giù buono questo Comunque alla fine Miglioreremo di un po' Tipo 3 o 4 decimi Ragazzi loro staccano Molto più tardi Rispetto a me Non capisco Dov'è il punto di stacco Di stacco Quartararo c'è Mamma mia Anche la potenza Del motore però Devo a violino Ok Qui ho saccato Più forte io Non è vero un cazzo Siamo a cab Tagliamo le curve Noi Qui non freniamo Perché siamo a cab Non è vero frenato Eh Sto perdendo un botto Di tempo Porca susina Siamo a fare Un ultimo giro Ragazzi E poi Se non ce la faccio Partiamo sesti Cont'è questo Due Se Vabbè Due otto Mamma mia Più lento del mio giro Di prima No ho fatto Due nove Prima No due sette Perché ragazzi Cerchiamo di farlo bene Sto giro Cerchiamo di farlo bene Cerchiamo di farlo bene Intanto abbiamo perso qualcosina Cerchiamo di raddrizzarci Asuter Dai shooter Spingi Satura il distacco Ma ok Questo era brutissimo Vediamo quanto usciamo Quindi ragazzi Abbiamo migliorato un po' Ma Troppo Quarta roccia ha fatto cadere Quindi passiamo subito Ok ragazzi Siamo in gara Siamo in gara E niente Andiamo C'è una prima Cassa a martello Andiamo Cerchiamo di prendere subito La scia di qualcuno Quartararo Mannaccia a te Se mi fai cascare Mannaccia Antonelli Intanto alla destra Quartararo Quartararo Mannaccia Io punto a lui ragazzi Io punto a lui Madonna Ma che motore di merda Ha questa moto Guardate Nemmeno dopo la scia Li supera Sono in frenata E ottima Ottima Ora Non è sa che c'è Prendiamo la scia Ragazzi Prendiamo la scia Prendiamo la scia Prendiamo la scia Guardate ragazzi Non ce la fa nemmeno Non ce la fa Non ce la fa Siamo Larghi Qui Ok Ma perché Siamo sempre Vabbè Ah niente Poco importa Prendiamo La moto si è comportata Bene Mamma mia Come siamo usciti In questa curva Recuperiamo anche Kent ragazzi Recuperiamo anche Kent Anche Fottivamente Madonna Il sorpasso Il sorpasso è più bello Della storia Ragazzi Il sorpasso è più bello Della storia Questi siamo usciti larghi Infatti Kent Probabilmente il risor passerà Ma noi in questa curva siamo più veloci Stattiamo più tardi Non è vero Si è vero Ma qui cattiamo Porca Siamo larghissime Ci hanno infilato No si No Kent no Siamo usciti forti però Mettiamola di traverso Stasute Il live Per riprendere la scia di Kent Ok Siamo usciti fortissimo Purtroppo L'abbiamo Camponato Prendiamo la scia di Kent Ragazzi Prendiamo la scia di Kent Traversiamo Questa motuzza Mamma mia Il sorpasso più epico Mamma mia Tardato un po' troppo In questa curva Vabbè E vabbè Motard Che abbiamo perso tantissimo Da Kent Porca mignotta Dobbiamo recuperare Tutto in questo giro Ragazzi Dobbiamo recuperare Tutto in questo Fottutissimo giro Ok Vai sicci Vai sicci Che ce la facciamo Vai sicci Che ce la facciamo Sì io posso Ehm Vando alle ciance Ciancio alle sale Ok ragazzi Ce la potremmo fare In teoria Abbiamo recuperato Molto in questa curva Che cazzo è Ci siamo fatti Sottissimo Il distacco è minimo Non dobbiamo sbagliare Sto distraendo troppo ragazzi Sto distraendo troppo Ok siamo usciti forti qua Siamo usciti più forti di Kent Possiamo usufruire della sua scia ragazzi Possiamo usufruire della sua scia Quindi proviamo Quindi proviamoci Staccata No ragazzi No Guardate come si interversa anche la sua Mamma mia come siamo usciti qua Come siamo usciti qua Mamma mia che abbiamo fatto Interversiamo sto mostro Ok Ok Curva presa alla perfezione Attenzione a Kent dietro Attenzione a Kent Attenzione a Kent Ok siamo usciti bene anche da questa Ok ragazzi Dai Sicci Dai Sicci che la possiamo vincere questa Dai Sicci Ok Gli ultimi due curve Gli ultimi due curve ragazzi Ce la possiamo fa Ce la possiamo fa Ce la possiamo fammela Che non ci recupera Kent E andiamo così ragazzi Catroia Sicci vince ragazzi Vinciamo La prima gara del campionato Di questa serie Cioè la prima gara Poi è la wild card Per farsi Vabbè Non fa niente Come vedete Siccome ho dovuto Resettare la play Per vari problemi Ehm Si No Si Si Ma vieni Si E' duro Ok Quindi Niente ragazzi Vi volevo dire che Ehm Di Di Ma il cazzo si chiama Di team Ecco Di Ok 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 Ongetta Arriva Cold Di Antonelli Dai Ongetta Dai con Niccolò Si Mi va bene Mi va bene Poi Poi proseguiremo Poi proseguiremo con il team Primato Ovviamente ragazzi Quando avrò un po' di spiccioli I GP E E niente Quindi Ragazzi abbiamo firmato con loro E niente Che dire Se vi è piaciuto Lasciate tanti like E ovviamente lo spero Perché davvero ci dedico il tempo A fare questi video Ehm Niente Vi voglio bene ragazzi Veramente vi voglio tantissimo bene Perché non capite Quanto mi fa di stare bene Quando vedo che aumentate Che siete attivi Che apprezzate il lavoro Che facciamo Noi youtuber E niente ragazzi Se il video vi è piaciuto Come vi è risp... Non so farla Ciao